Musica Lo elemento principe della seduzione è la grazia, la sensualità, il movimento, il movimento in particolare quello della danza e i nostri prossimi ospiti hanno affascinato milioni e milioni di telespettatori con le loro evoluzioni e che cosa c'è di più seducente di un tango, di un tango appassionato? Certamente un tango appassionato che abbia per protagonisti Natalia Titova e Samuel Peron Io sono sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà e su quel fiore una farfalla volerà Io sono sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me Non mi scorderà Sì, io lo so Tutta la vita sempre e solo non sarò E un giorno io saprò Essere un piccolo pensiero Nella più grande immensità Del suo cielo Sì, 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 io lo so Tutta la vita sempre e solo non sarò E un giorno troverò Un po' d'amore anche per me Per me che sono un'unità Nell'immensità Che fascino, che calor, che bravura Natalia Titova, Samuel Peron Grazie, grazie Grazie, grazie davvero anche alla nostra orchestra E per parlare di Per parlare di Grazie a tutti Grazie a tutti